Sentirsi belle anche quando si combatte contro una malattia debilitante. L'ultima iniziativa promossa dall'ospedale San Raffaele di Milano. La moda, lo stile e il design al servizio della salute. Si chiama Vita, questo turbante creato dall'ospedale San Raffaele di Milano e da uno storico setificio comasco. Un nome importante per un dettaglio altrettanto importante, ideato per aiutare le pazienti oncologiche che perdono i capelli durante le cure a sentirsi di nuovo belle a proprio agio. Perché il fatto con la chemio di perdere i capelli li fa perdere femminilità e questo peggiora fortemente il decorso della malattia. E sono proprio le pazienti ad aver contribuito a creare questi turbanti. Sono loro che ci hanno aiutato a identificare quali erano i punti deboli del fular e quindi poterli poi rimediare. Ci siamo ispirati ai nostri archivi, abbiamo trovato numerosi fular, disegni dalla natura. Il ricavato andrà al progetto Salute allo specchio, nato per dare supporto psicologico alle donne con patologie oncologiche. Come con qualche semplice accorgimento, far vedere che potevano queste donne ritrovare la loro femminilità e ha funzionato. Come con qualche semplice.